Lo spavento di Cecilia Rodriguez dopo le nozze. Febbre a 39,5. Tremava. Sorella della più nota Belen, Cecilia Rodriguez, si è sposata lo scorso 30 giugno con il suo fidanzato di lungo corso, Ignazio Moser. I due si sono conosciuti sette anni fa nella casa del grande fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Tanto da arrivare al coronamento del sogno d'amore con un matrimonio da favola, durante il quale sia la sposa che lo sposo hanno spiccato per eleganza e grazia. Anche i genitori della sposa si sono in qualche modo distinti, particolarmente il padre della sposa che ha voluto fare un discorso ben augurante nei confronti della coppia di neosposi, provocando la commozione e l'emozione di tutti i presenti, Belen compresa, che ha scelto uno stile sobrio per non rubare la scena alla sorella nel suo giorno più importante. Alla cerimonia, oltre a tutta la famiglia e dagli amici più stretti della coppia, c'erano anche i loro adorati cani, Ercolino e Aspirina, rispettivamente un Jack Russell e una meticcia. I due animaletti sono parte integrante della famiglia, per Cecilia e Ignazio i due sono praticamente come figli e li portano ovunque vadano, oltre a curarli con molto amore. La corsa in pronto soccorso per la febbre alta di Ercolino. Il grande spavento subito da Cecilia Rodriguez e da Ignazio Moser è stato per uno dei loro due cani, Ercolino, che ha avuto un attacco di febbre altissima e tremore al punto che i due sono dovuti correre al pronto soccorso di una clinica veterinaria per farlo curare. In un video pubblicato su YouTube Cecilia Rodriguez stessa ha commentato l'accaduto e ringraziato tutte le persone che si sono preoccupate per il loro cagnolino, spiegando anche cosa fosse realmente successo a Ercolino. Pare infatti che il cagnolino, che lei nel video chiama Nino, abbia avuto una brutta bronchite che gli ha provocato tremori, febbre alta, tosse, tanto da costringere i padroni a portarlo di corsa dal veterinario. Cecilia Rodriguez ha ammesso che lei e il neo marito si sono spaventati moltissimo e che per questo motivo ora stanno monitorando Ercolino per verificare che il decorso della malattia, ormai in via di guarigione, progredisca senza intoppi e che il cagnolino stia sempre meglio giorno dopo giorno, così da poter tornare a giocare con la sorellina Naspirina il più presto possibile.